Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fino alle 20 è chiuso per lavori il tratto tra Rioveggio e Pian del Voglio in entrambe le direzioni, uscita consigliata Badia. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale A1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Giuncarico e Gavorrano Scalo. Per lavori è chiuso in entrata e uscita lo svincolo di Follonica Est. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.